Le tipiche strutture di Puglia sono pronte ad accogliere anche quest'anno. Quanti hanno voglia di vivere le tradizioni sussurrate dalla terra? Torna di scena sull'intero territorio regionale, ma serie sotto le stelle, l'evento dedicato alle antiche tradizioni contatine di Puglia, organizzato dall'area politica per lo sviluppo rurale della regione, in collaborazione con l'area politica per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti. La terza edizione dell'evento è stata presentata a Bari, presso il Palazzo della Regione, alla presenza del Presidente Nichi Vendola, degli Assessori al Turismo e alle Risorse Agroalimentari, rispettivamente Silvia Godelli e Fabrizio Nardoni. 65 masserie didattiche coinvolgeranno cittadini e turisti pronti a scoprire le peculiarità dell'agricoltura regionale. È una festa e cerchiamo di coinvolgere i pugliesi, ma non solo i pugliesi, e in questa festa raccontiamo quali sono i nostri prodotti pugliesi, ma soprattutto raccontiamo anche che cosa sono i nostri artisti pugliesi, perché ci saranno anche degli eventi che in qualche maniera rallegrano anche l'evento stesso. Siamo veramente in un grande risultato, addirittura ci sarà quest'anno anche una masseria che valorizzerà fortemente anche i prodotti provenienti dal mare, e quindi anche questa è un'altra attività che stiamo mettendo in campo, così come anche quella di unire al ciclo formativo delle masserie anche i percorsi all'interno dei boschi, tanto è vero che siamo per portare in giunta anche una delibera che permette appunto di creare i didattici, che si inserisce benissimo anche con la masseria. Ritaglia il tuo angolo di cielo e l'invito rivolto a grandi e piccini che avranno la possibilità di vivere a pieno quella sapienza di vita che rende unica una terra, la Puglia, che ha saputo mettere le proprie tradizioni al centro dell'attività di valorizzazione e promozione dell'intero sistema regionale. Le masserie didattiche si trasformeranno in veri e propri laboratori a cielo aperto divenendo al contempo anfiteatri naturali pronti ad accogliere stelle danzanti al ritmo della tradizione ma anche tavoli ospitali e spazi espositivi.